È stato annullato perché non intendo creare problemi a nessuno, non intendo creare problemi all'amministrazione delle forze dell'ordine, non intendo creare problemi ai locali che si erano prestati ad ospitarci. Pressioni e critiche, sollecitazioni, ma anche insulti e minacce. E così alla fine l'evento del 14 maggio con il generale dell'esercito italiano Roberto Vannacci, candidato all'Europarlamento con la Lega, è stato annullato. Era già successo altrove e nelle ultime ore è successo ancora con il caso sulla presenza dell'autore del controverso bestseller Il mondo al contrario all'Oscar del libro di Conversano. Le idee di Vannacci da molti, giudicate omofobe e razziste, continuano a scatenare reazioni non sempre legittime. E il confronto democratico, come spiega l'avvocato Raffaele Missere, che tra gli altri aveva lavorato per garantire la presenza del generale a Torre Santa Susanna, va a farsi benedire. Per questo l'evento è stato annullato. Ho vissuto anche due episodi di una moto che è passata, sembrava sempre la stessa, con due persone a bordo con i caschi, uno di questi mi ha gridato contro, con epiteti che la mia vita umana non merita, lanciando anche delle minacce del tipo ti uccideremo, ti appenderemo, una cosa del genere. Io credo che mi impegnerò, con Vannacci o con altri, in altri incontri dove si possa tranquillamente colloquiare con tutti ed avere scontri verbali con tutti, anche accesi, ma con tutti, per far capire a tutti che ci formiamo, ci creiamo, ci strutturiamo mentalmente più che fisicamente, se abbiamo il confronto con gli altri. Grazie. 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 Grazie.